Approfitto dell'ultimo viaggio in treno, peso rancora da presidente, per l'impegno di venire in regione in treno, per salutare tutti quelli che hanno dato un loro contributo sulla pagina Facebook. La pagina, essendo di carattere istituzionale, non personale, chiuderà con la giornata di oggi. È stato molto importante per scambiare opinioni, idee, proposte, per far sapere quello che si stava realizzando nella nostra regione, tutto con l'obiettivo di un rapporto più diretto fra chi governa e chi governa. Sono stati cinque anni importanti insieme e mi sembrava importante salutare alla fine di questa esperienza, sapendo che la pagina da domani non ci sarà più.